il percorso grande cosa no si no niente stavo rispondendo lui che fa il percorso quello per sono ancora che devono fare il giro altri che devono fare il giro solo che non lo vede non sta aspettando l'angelo poi non ce n'è più l'amore si 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 Grazie Grazie Pensavo fosse quello che diceva prima C'è quel ragazzo che va a chiaccomando Ma è qui? Ma va Ti viene l'angoscia E vabbè Non è quella C'è un paio Laerencia In questo caso ha già Settимato Scatogli Giugno E' un paio Settissimo Noi Perché Sì, lo vedo, ho visto. Sì, lo vedo. 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 Sì, lo vedo.